Anti-infiammatori di origine naturale per i dolori articolari. La natura ci offre vari anti-infiammatori naturali per combattere disturbi fisici. Tra questi, spiccano delle proprietà utili a combattere i dolori articolari. L'infiammazione del ginocchio dovuta all'usura dell'articolazione oppure i dolori alle dita delle mani o dei piedi sono disturbi comuni che spesso ci obbligano ad assumere farmaci per eliminare il fastidio. Ma esistono anti-infiammatori di origine naturale? Nei casi di infiammazione lieve, la natura ci offre, in effetti, diversi anti-infiammatori di origine naturale che possono aiutarci ad alleviare svariati disturbi, tra cui dolori articolari. Sapevate che esistono straordinari anti-infiammatori naturali che possono aiutarci ad alleviare il dolore all'articolazione in maniera molto efficace? Ovviamente, dovete sempre consultare il medico prima, ma quando siete a casa e avvertite la necessità di prendere una pastiglia o il classico ibuprofene, optate piuttosto per dei rimedi naturali come quelli che vi proponiamo. Vi sentirete subito meglio. 1. Infiammatori di origine naturale Il rosmarino Il rosmarino è una pianta aromatica e medicinale molto comune nella dieta mediterranea. Conferisce un caratteristico aroma alle pietanze e viene anche utilizzato in molti rimedi casalinghi. Sapevate che tra le sue proprietà, il rosmarino è straordinario per alleviare i dolori articolari? Grazie al suo contenuto di acido orsolico combatte efficacemente le infezioni che colpiscono le cartilagini o le articolazioni di mani e ginocchia, senza alcun effetto collaterale. Prendete nota di come utilizzare il rosmarino per il dolore articolare. Ingredienti 200 grammi di rosmarino 2 bicchieri di acqua 400 ml Procedimento Non dovete fare altro che preparare un infuso. Quando l'acqua sta bollendo, aggiungete i rametti di rosmarino e lasciateli in infusione per 20 minuti, in modo che sprigionino le loro proprietà. Trascorsi 20 minuti, lasciate riposare. Potete berne due tazze al giorno. 2. La coda cavallina Potete reperire la coda cavallina in farmacia, in erboristeria o nei negozi di prodotti bio. La coda cavallina, oltre a essere uno dei migliori antinfiammatori di origine naturale, è anche una pianta ricca di minerali e vitamine. Come beneficiare delle sue proprietà. Preparate un infuso da bere due volte la giorno. Farà molto bene alle vostre articolazioni. 3. La curcuma Vi abbiamo già parlato della curcuma e dei suoi meravigliosi benefici in molte occasioni. Questa spezia, originaria dell'Asia e dal caratteristico colore giallo, è favolosa per trattare il dolore articolare. Non esitate a provarla al posto del classico ibuprofene ogni volta che avvertite dolore. Grazie alle sue proprietà antinfiammatorie, analgesiche e antiossidanti, la curcuma è indicata per contrastare qualunque disturbo fisico e disinfetta qualsiasi tessuto ferito o lesionato. Per beneficiare dalla curcuma, potete preparare un infuso come di seguito, ingredienti 1 cucchiaio di curcuma, 20 grammi, 3 tazze di acqua, 750 ml, 3 cucchiai di miele, 60 grammi, procedimento Fate riscaldare l'acqua. Quando inizia a bollire, aggiungete il cucchiaio di curcuma. Subito l'acqua assumerà un colore giallognolo. Fate bollire per 10 minuto e poi lasciatela riposare. A questo punto, filtrate l'acqua e aggiungete 3 cucchiai di miele. Potete bere l'infuso durante l'arco della giornata, in modo da trattare l'infiammazione e il dolore articolare. È molto semplice. 4. Lo zenzero Sapevate già che avremmo incluso lo zenzero tra i migliori antinfiammatori di origine naturale. Questa radice ha notevoli proprietà medicinali, quindi è molto indicata per trattare i dolori alle articolazioni. Ogni volta che avvertite dolore alle articolazioni, non esitate a preparare il seguente rimedio a base di zenzero. Ingredienti 200 grammi di radice di zenzero Grattugiata 2 bicchieri d'acqua 400 ml 2 cucchiai di miele Procedimento come per i rimedi descritti in precedenza, potete preparare un infuso anche con questa radice. Per farlo, portate l'acqua a ebollizione e aggiungete lo zenzero, lasciandolo in infusione per 20 minuti. Trascorso questo tempo, lasciate riposare altri 10 minuti e poi filtrate l'acqua. Il passo successivo consiste nell'aggiungere i due cucchiai di miele. Come vedete, il miele è un ingrediente fondamentale in questo tipo di rimedi naturali perché, grazie alle sue proprietà, combatte in maniera molto efficace qualsiasi tipo di dolore articolare. Ricordate di bere due tazze di infuso di zenzero al giorno. Vi darà ottimi risultati. 5. I semi di lino Non potete trovare i semi di lino in qualsiasi negozio di prodotti naturali. Non sono costosi e contengono proprietà antinfiammatorie naturali. Vediamo in dettaglio perché sono particolarmente indicati in caso di dolore articolare. Antinfiammatori di origine naturale Le proprietà dei semi di lino Il loro contenuto di Omega 3 è di origine naturale. Infatti, i semi di lino rafforzano il sistema immunitario e aiutano il corpo a combattere i disturbi delle articolazioni. Fate solo attenzione che gli Omega 3 siano di origine vegetale perché, se fossero di origine animale otterreste l'effetto contrario, cioè l'infiammazione. La dose giornaliera è di 2 cucchiai di semi di lino, ovvero circa 40 grammi. Mangiateli da soli oppure in aggiunta alle insalate, ma assicuratevi di non cuocerli perché, altrimenti, perderebbero gran parte degli Omega 3, oltre a rendere difficile la digestione. Preferite consumarli a crudo, come se fossero delle vitamine. Idealmente dovremmo ricorrere sempre a rimedi naturali invece di esagerare con farmaci come l'ibuprofene. Ma seguite sempre le indicazioni del vostro medico curante.